Nella puntata precedente, una delle due date... THE BEST! Perché visto che il bagno dovrebbe essere da questa parte, quindi avrebbe anche più senso. Hello! Buon bacino. David, sei già qui? Noi non c'entriamo. Noi non c'entriamo. Noi non c'entriamo. Noi non c'entriamo. È che tu cosa stai azzurra? È che tu cosa stai azzurra? Tu conosci più di me di che io. No! Tu e Chloe credi che tu conosci più di nessuno. Come tutti i ragazzi. Oh! Leave Max alone, David. Stopp'lare a scoprire i studenti. L'agrae a scoprire i camera di sospettare. Quindi si può spire su tutti. Come si spie su tutti noi qui. Non ti cominciai, Chloe. Non ora. Sì, sempre sto iniziando, certo? Sei un totale paranoico, David. Non ora, Chloe. Mi chiamava chiamare per essere scoperto da Blackwell. Quindi chi è il scoperto ora, David? Chi non hai accusato o arrestato? Tra le vostre investigazioni tra Rachel e Kate, cosa hai fatto in grado di essere in problemi? Oh Dio! Eh... Questa è una di quelle scelte. Perché sì, dovrei stare dalla parte di Chloe. Però poi... Dopo lui se la prende troppo... Fa il suo lavoro, lo fa... Troppo. In maniera esagerata, però... Però vediamo come va. Sei un bambino, David! Vi ho visto che ti harassa Kate Marsh quando si stava in grado. Tu avessi totalmente aiutato. Tutti a Blackwell è un sospetto a te, excepto Nathan Prescott. E' per questo che i studenti e la facoltà non piacciono te. Tu avessi anche scoperto a me. Io rispetto il tuo servizio, ma tu non rispetto a nessuno. Uh... Tu eravessi fumando un po' in casa di Chloe. E' illegale. E' così spiando a persone in tua famiglia e a tua lavoro. Perché hai foto di Kate Marsh e Rachel Amber... Eeeh, questo non dovevamo dirlo. È vero, Max? Sì, David. Cosa hai questi file? Mi sento molto distrutto. Non ho bisogno di prendere questo tipo di interrogazione. Non da voi, Punks. Magari tu dovresti calciare. Uh oh. Tu stai spettando a me ora, eh? Certo. Le donne sempre stanno insieme. Beh, vabbè te! David! Tu dovessi andare a un hotel per noi capire questo. Tu non puoi me darare di me da mia casa. È mio casa, David. Paolo per e in mio nome. Tu sai la legge, certo? Tu sai la legge, certo? Tu sai la legge. Tu sai la legge. Tu sai la legge. Ehm... Ehm... Voglio provare a vedere cosa succede al contrario. Poi magari scelgo comunque questa scelta, ma voglio sapere anche cosa succede dall'altra parte. Sì, sono curioso. Sono curioso. Bluuuuh! Eh! Nooo! Fino a qua! Oddio! Skip! 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 David! Scusate! Non sappiamo che David ha fatto niente e nessuno ha nulla segnamento. a far as we know it's nathan prescott who's the real threat so far i would cut david slack here oh would you how generous king max so suddenly it doesn't matter how shady david has been acting or that he keeps all those weird files on your classmates or how you're always going off on how creepy david is enough i don't want anybody being accused of anything there's been too much of that crap going on around here lately and i don't want it in my home today well i agree with that now if you all don't mind i'd like to forget about work and sit down and eat some of this incredible group i have to take a dump are you coming max maybe i went too easy on david for joyce's sake ma perché non possiamo fare una via di mezzo but this is my family non lo so non saprei l'altro non lo so così è proprio la sensazione perché sono entrambe due conclusioni che non mi piacciono per niente o no salve il i i i a Ora andiamo a parlare con lei. Dica. Eh, l'ho già fatto. Due volte. Però alla fine questa era la scelta migliore. Eh già, non posso che concordare. E via! Tutti verso nuove avventure. Ah, è lui che abita nel camper? Frank ha il braccio di Rachel. C'è altro che ha l'altro? Il madref***e non ha nulla, per il suo motivo. Io continuo a dire che quegli uccelli che vuole nel cielo sono strani, eh? Magari ci riprendiamo anche la pistola. Aspetta, non ha il cane questo. Dobbiamo essere ninjas casuali qui. Ok, qui c'è il plan. Andrò al diner e distrattere Frank, dicendo che avevo questo dinero. Ma bisogna venire con me. Allora tu vieni in e riempi, quindi Frank non mi vede. Allora tu puoi dire Frank che bisogna guardare il suo RV. E poi ti riempi dopo ottenere la chiave. E, ehm... Chloe, ho fatto questo. Spero di tornare. Basta che gli rubi le chiavi, gli prendi in mano le chiavi e poi riavvolgi. Pi, 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 pi... Eh, buongiorno! Perché questo? Allora, questo è in italiano, questo è in inglese. Perché? che è? Buon pò, Bacon. Sto pronti di nuovo. Ma ho bisogno di prendere i lettori. Eccolo, Warren. ... 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 E' la serie cazzeggiamo. Se io rovescio il piatto? Era un fagioli. Non è che gli sono cadute le chiavi quando è caduto? Parlo con lui? Come si, c'è un po' che fanno? C'è un po' che fanno? C'è un po' che fanno? I'm going to set up that officer or even Nathan and then go all Groundhog Day on them until I get the info I need Va bene There she is, Super Maxine, that's your new nickname around the bay. Sorry, but you did earn it. We're all real proud of you for helping Kate down Thanks Officer Barry. I was just lucky. And right on time. Kate is who counts I'm glad you representing Blackwell Academy Successivo? Ah, ci sono altre I thought Nathan Prescott represents Blackwell Don't make me backwash this bacon. You know what the Prescott's represent? Taking over Arcadia Bay? You're not far wrong, Max. I heard the Prescott's are working on some new big land deals Mr. Prescott helped out my family once a while ago So I made a deal with him That I can't seem to get out of Man, if I could get one instant replay in life I better finish my breakfast first Ah, non posso tornare così tanto indietro Almeno non penso I'm glad Hmm Well, I heard a rumor you were working for the Prescott family on the side Jesus, doesn't this town ever shut up I don't blame you for getting extra work Look, sometimes I check up on the Prescott family to make sure they're doing all right Nathan included Keep this quiet, Max Try interrogating somebody else, Lieutenant Caulfield Chiave sia con Frank Nathan o con l'agente... Un'informazione chiave Ah, guarda chi c'è! Buongiorno! Rachel! Whatever the fuck Uh Oh, look! Max Amber! Nice outfit! By the way, thanks for getting me fucking expelled, you tweet bitch! You're lucky this is a public place Considering we're in a public diner with a police officer right over there You shouldn't advertise your rage, Prescott Oh, yeah? You shouldn't have bitch snitched on me to that fucked up principal I heard your dad hired a local cop to keep an eye out on you and Frank Bowers Like a babysitter Bullshit My dad doesn't hire He owns And these pigs know better than to knock on me Do they? I hope that means Frank won't get busted Eventually he will Guy's into some freaky shit He told me once he took a weird blood oath for Rachel Uh, forget I told you that Seriously Non credo bro Non credo bro Posso chiedere a lui o posso chiedere all'altro Chiediamo al simpaticone poi al massimo chiediamo all'altro Weren't you supposed to keep your mouth shut about the blood oath Frank took for Rachel? Blood oath? Who? What the fuck? I never told anybody about that freaky shit Besides, everybody knows Frank is a liar and a loser Even Rachel did Yet Rachel Amber hung out with him more than you So? Rachel wanted Frank's stash She let him take pictures Then he carries around her photo like she pose for love Dumbass Proviamo a chiedere di nuovo No Già fatto Proviamo ad andare a parlare col tizio Abbiamo un po' più di informazioni Ciò Se prendo le chiavi? I'm afraid I'll have to take your keys now asshole You did not just do that Give me back my keys bitch Give me my keys now Certo Torna a sederti Forse è meglio che si Quando si rimette in tasca Perchè In questo modo non si accorge neanche che non ce le ha Da dove si esce? Perchè se tornavamo quando ce le aveva sul tavolo e non c'erano più sul tavolo Ehi c'è la solita tizia con cui non ho parlato manco una volta per sbaglio Minchia c'ha un culo di merda questa qua eh Ok possiamo entrare Per il cane Per il cane Non voglio far finire il cane Non voglio far finire il cane Per il cane Per il cane Penso che abbiamo fatto questo cane Un cane Entendolo? Ora posso scappare in paese Ma non per farlo Non per averlo No perché se lo lanciavo per stato probabilmente veniva tirato sotto Non voglio farlo uccidere I cani Non importa se torna riavvolgo Sì Finchè non si ronta Sì Finchè non si ronta Sì Finchè non si ronta C'è un pc Poi Vediamo un po' Radar della polizia Dove l'ha presa Dove l'ha presa Non si sa eh Frank è quasi una mamma Per il cane Questa è Questa è Buona notizia che Frank ha una Un cane Lei sta guardando il pc Io ho ciotto del cane Hoppadu For real E' un nome di Poodle Penso che il cane Mi piace il cane Il cane Non puoi immaginare Frank e Chloe drinking birra E sbagliare Non abbiamo mai incontrato Chloe Non sappiamo neanche com'è DUDE Perché non posso guardare il lavabo? Eh non siamo qui per giudicare Siamo qui per cercare prove La pistola devo trovare E' qua dentro Chiaramente Mi viene in mente il coltello Mi viene in mente il coltello Ma prima guardiamo Se c'è qualcos'altro in giro Oh, Frank Stash Altro Fotografia Qua sopra Qua sopra Un'altra presa d'aria Potrei aprire questo vento con il giro Il coltello va bene Questa cos'è? Questa cos'è? E' Frank going to deal online now? No, è business E' fiamma ossidrica? Non è una buona idea Mostine, coltello Questa cos'è? Questo è quasi così buono che un set di key Quale apriamo prima Quello è troppo visibile Quindi prima questo La mia blade apriera l'altro portale Registro contabile O diario Uno dei tuoi Entrambi Oh maio, Rachel e Frank, non so se non si dovrei essere toccato o se disturbano. Frank e B? Ah, mi ha visto qualcosa di più. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Frank è da andare a colpa del droga, veramente spaventata. Non ci guardiamo niente, non ci guardiamo niente. Ok. Ora possiamo guardare dall'altra parte. C'era scritto veramente 2013. Perché non posso guardare più da questa parte? Ora posso aprire da questa parte? Perché non posso aprire da questa parte? Ah, porca, ho sbagliato l'ordine, devo fare prima questo. Perché non mi fa aprire. Ah, devo consegnare a lei il registro. Perché non mi fa capire che Rachel posse così per Frank. Ho scritto le le letture. Non mi credo che lei fosse spaventata a Frank. Rachel straight up liate a mia face. Perché non si diceva? Perché lei sapeva come reagiria. E non era una persona molto di una amica, eh? Solo una persona che mi ha spaventato. Perché tutti in mia vita mi ha spaventato? Mi padre si è morto, tu mi ha spaventato per anni fa, mia madre si è morto a una stepf***a, ora Rachel mi ha spaventato. Chloé, Rachel è morta, nessuno ti ha costruito Bullshit, chi non ha? F***a tutti! Ehi, quale servivano? Questo quanti fagioli si mangiano? ... Ma io volevo aprire dall'altra parte! ... 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